Basta quel pensiero di vieni, vieni via con me, tuffiamoci nel mondo, fidati di me. Con un'opera monumentale di Goethe prosegue al Teatro Petrarca la stagione proposta dalla Fondazione Guido d'Arezzo, assieme alla Fondazione Teatro Spettacolo Ollus e al Comune di Arezzo, sul palco del Teatro Scene da Fausta, nella versione italiana firmata da Fabrizio Sinisi per la regia e la drammaturgia di Federico Tiezzi. Il regista affronta così il mito del Fausta, sapiente e studioso di teologia, filosofia e scienze naturali, che per ottenere sapere, potere e giovinezza vende la propria anima a Mephistofele mediante un contratto firmato col sangue. Sarai mio, senza condizioni. Lo spirito che hai avuto da destino ti spinge sempre avanti, senza freno. Nonostante tutto ciò che sa non riesce a trovare una pace in qualche modo. E quindi la tentazione del demonio, in questo caso del Mephistofele, è donargli i piaceri della vita in realtà, è annichilire il pensiero che invece diventa un buco nero da cui non si esce, la coscienza e l'autocritica che può portare quasi solo a dolore e a domande, e invece lasciarsi andare, come dire, alla briglia sciolta della vita. Viglia mia, ti lascio in pace, sì. Non serve dirlo con quell'aria tetra. Tu, povere creatura della terra, senza incontrare me, che vita avresti avuto? Sono stato vero? A liberarti un po' dai vizi oziosi della tua fantasia? Non fosse stato per me, a quest'ora tu saresti già scappato dal pianeta Terra.